Molise a calci, in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo, uscita a Civitanova del Sanni Consul Brokers, Piazza della Vittoria 14A, a Campobasso, broker di assicurazione Info 0874 43 86 35 Molise a calci Buonasera, ben ritrovati con la puntata numero 336 di Molise a calci la puntata che precede praticamente un turno di campionato pasquale nel senso che si giocherà, si giocherà nonostante la Pasqua e il Legapro si giocherà il sabato santo ma la cronaca ci impone di celebrare questa salvezza matematica del Campobasso a dire il vero per una serie di circostanze cioè vale a dire l'esclusione del Catania dal campionato che è avvenuta di fatto intorno alle 15 di sabato il Campobasso, ecco per una serie di, ripeto, di circostanze, di numeri era salvo già prima di giocare contro la Vibonese ma noi che sostanzialmente amiamo il campo, i verdetti del campo abbiamo voluto aspettare questo 4-1 questa vittoria del Campobasso e danni della Vibonese per celebrare questa permanenza in Lega Pro a dire il vero meritata anche perché la squadra rosso-blu non si è mai ritrovata nella zona che scotta nella cosiddetta zona play-out poi vedremo alla fine del campionato se si faranno o meno i play-out adesso l'obiettivo per bocca dei dirigenti e per bocca anche di alcuni giocatori che abbiamo intervistato dopo la vittoria di ieri è diventato fare i play-off vedremo se il Campobasso ci riuscirà negli ultimi 180 minuti parleremo di Serie D avremo un collegamento Skype nella seconda parte due blocchi di Moviola il top e flop preparato come sempre da Gaia Cosco che saluto, ben ritrovata Gaia come sempre al nostro fianco Buonasera a te Gianni buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati a questa nuova puntata di Molise a calci prima di iniziare come sempre vorrei ringraziare la boutique Smeralda Moda per il completo di questa sera e di inoltre vi ricordo che potete continuare a vederci sempre sul canale 11 per il Molise ed inoltre questa puntata e tutte le altre saranno visibili anche sul sito di Youtube di Telemolise Canale 11 per il Molise e l'Abruzzo dopo il recente switch off del 7 aprile scorso e Telemolise 2 che è passato sulla canale 18 Dopo queste precisazioni possiamo dovute dovute perché ci stanno chiamando in tantissimi ma lo abbiamo anche detto nel corso delle nostre trasmissioni di TG Sport Telemolise ha mantenuto il canale 11 possiamo quindi procedere alla presentazione degli ospiti Ciao Gianni, questa sera con noi Domenico Progna ex calciatore del Campobasso dell'Atalanta Bari di altre squadre buonasera e benvenuto a Molise a calci Ciao, buonasera a tutti Qui con noi è anche Alessandro Lancellotti collaboratore del giornale di Vicenza e Avvenire nonché storico e antropologo buonasera e benvenuto anche a te Molise a calci Buonasera a tutti e ringrazio Gianni per l'invito Buonasera a entrambi i nostri ospiti è un piacere avere Domenico Progna Alessandro Lancellotti Allora Domenico, l'argomento più caldo la salvezza matematica del Campobasso in Lega Pro meritata, abbiamo detto questo meritata, sei d'accordo? Sì, come hai precisato prima non si sono mai trovati nelle zone calde quindi dalla prima partita da Avellino fino all'ultima, quella Vibonese si sono sempre trovati in quella zona di classifica di mezzo tra i play out e i play off quindi non hanno avuto mai problemi di classifica e mai l'affanno per poter così rincorrere delle situazioni abbastanza così agevoli quindi merito al Campobasso, alla squadra allo staff tecnico che hanno conquistato la salvezza con due giornate tantici Giusto alzare l'asticella secondo te quindi passare, trasformare l'obiettivo dalla salvezza al decimo posto che è l'ultimo utile per fare play off che ora è distante tre punti Sì, anche perché ormai Tentar non nuoce hanno due partite a disposizione anche se una abbastanza potrebbe essere complicata a Catanzaro ma molto probabilmente il Campobasso gioca molto meglio fuori casa che non in casa è l'ultima colpotenza quindi possono ambire ad arrivare nei primi dieci quindi chiaramente come primo anno in Lega Pro dopo tanti anni di dilettantismo sarebbe sicuramente un bel traguardo Alessandro Lancellotti da Vicenza da Vicenza ieri sei sceso giù diciamo in Molise poi ti sei recato allo stadio di Benevento Vigorito per assistere a Benevento Vicenza questa sconfitta del Vicenza che è avvenuta anche con un uomo in meno ha vinto il Benevento con un uomo in meno perché nel Vicenza era stato espulso a fine primo tempo Meggiorini esattamente l'arbitro aveva fischiato alla fine del primo tempo e Meggiorini per protesta è stato espulso il Vicenza era passato in vantaggio al sesto del primo tempo con Dio e il VAR ha annullato la rete in questo momento il Vicenza è in zona play-out è a pari punti col Cosenza che deve recuperare la partita contro il Benevento giovedì 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 c'è Cosenza-Benevento che vale molto per il Cosenza che ieri ha perso col Monza per 2-0 e tanto per il Benevento che potrebbe agganciare il secondo posto con la promozione diretta per la promozione diretta ricordiamo che ci sono anche a 63 quindi al secondo posto Monza e Cremonese primo è il Lecce a 65 stiamo riassumendo un attimo perché manca pochissimo in questa quattro giornate in questa Serie B mai così incerta mai così incerta infatti non si è mai capito chi era la prima della classe c'è stata la Cremonese il Pisa il Lecce se la stanno giocando tutte nella zona alta della classifica ogni domenica davvero ogni turno può cambiare qualcosa adesso si giocherà Cosenza a Benevento poi si rigiocherà il lunedì in Albis tu sarai non a fare la gita fuori porta a vedere Vicenza a Perugia la domenica andrò a vedermi le finali di Coppa Italia di occhi su pista a Forte dei Marmi il giorno dopo andrò a vedermi Vicenza a Perugia questo Campobasso allora si è salvato sono contento per la salvezza del Campobasso l'ho subito tutta la stagione devo dire che è stata veramente emozionante le ultime tre partite sono state veramente belle anche il 4-4 con la Virtus Francavilla il 3-3 nel recupero con la Turis e ieri la vittoria con il Bibonese che ha sancito la salvezza il Bari in Serie B ritorna in Serie B tra l'altro abbiamo Domenico Pronia che è stato anche dal 91 al 94 un ex giocatore del Bari e poi vedremo chi verrà fuori come quarta promossa in Serie B a dire il vero deve venire fuori anche devono venire fuori altre due squadre potrebbe essere il Modena nel girone B e una tra Padova e Sud Tirol nel girone A tra l'altro Alessandro cosa c'è sabato santo? C'è Sud Tirol Padova e lo stadio di Bozzano che sarà la pretita che deciderà dal mio punto di vista chi delle due andrà in Serie B in questo momento è primo il Sud Tirol sì esatto con due punti di vantaggio sul Padova quindi si gioca il campionato si gioca allo stadio Druso di Bozzano allo stadio Druso di Bozzano ci si giocherà un altro posto in Serie B e ti dico una cosa se per caso il Sud Tirol riuscisse a essere promosso in Serie B sarebbe una cosa storica perché sarebbe la prima squadra di lingua tedesca in Serie B in Italia non è mai avvenuto il Bolzano alla fine degli anni 40 ma il Bolzano era di Bolzano il Sud Tirol era nato a Brescianone ti dobbiamo credere perché sei anche uno storico del calcio quindi ci racconti queste chicche ce ne racconterai anche altre nel corso della puntata di Molise a calci ma noi Gaia torniamo agli spogliatoi di Campobasso Vibonese chi abbiamo sentito? esatto Gianni abbiamo intervistato il vice allenatore del Campobasso Giuseppe Antoniazzi vediamo allora mister Felice per questa salvezza e adesso strizzerete l'occhio a qualcosa di più importante ce l'hanno detto già due giocatori qui ai nostri microfoni sì adesso siamo in ballo e balliamo fino a qualche tempo fa magari uno nemmeno ci pensava adesso dispiace per il Catania perché comunque è sempre un grande rammarico quando una società una piazza si trova in simili difficoltà però adesso siamo lì e noi ci godiamo sinceramente a prescindere dal Catania ci godiamo questo grande risultato che era la salvezza sul campo e poi adesso iniziamo a guardare con più serenità più tranquillità quelli che possono essere obiettivi insperati fino a poco tempo fa mi piacerebbe sapere in maniera più approfondita il suo parere sul Catania perché se ne stanno moltiplicando nelle ultime ore dei pareri tecnici lo stesso Zeman ha definito il campionato irregolare lei che cosa pensa questa esclusione avvenuta ad opera del tribunale di Catania a tre turni dalla fine ma noi lavoriamo sul campo quindi è chiaro al di là delle parole che poi le portano il vento nel senso che ci sono degli ambienti delle situazioni che a noi sono sconosciute quindi sono degli regolamenti che vanno assolutamente rispettati il Catania era all'inizio quindi in difficoltà come era successo l'anno scorso se non sbaglio per il Trapani quindi non è la prima volta sicuramente in questo momento hanno pensato un attimino a salvaguardare quella che poteva essere la regolarità del campionato che poi alla fin fine tocca relativamente le squadre che sono incappate in questa situazione perché poi a noi vengono tolti due punti però grosso modo tranne forse Paganese mi sembra aver capito Paganese sei punti in meno sei punti in meno è chiaro che per loro loro hanno avuto la beffa maggiore però se il regolamento è quello la regola è quella dispiace per il Catania dispiace per simili piazze però è così la salvezza del Campobasso è passata per una stagione sicuramente difficile come era nelle previsioni ma non siete mai stati nel lotto dei play out questo va sottolineato sì io mai risucchiati non sono non sono molto social però è chiaro che i commenti arrivano li leggiamo le notizie le informazioni però stavo sottolineando prima noi veniamo da tre anni in cui abbiamo complessivamente realizzato oltre 150 punti quindi sono 50 punti in categorie diverse però anche quest'anno abbiamo fatto secondo me un campionato straordinario ottenendo dei punti sul campo nessuno ci ha legato niente abbiamo rappresentato nel migliore dei modi una piazza bella e motivante come Campobasso andando ad ottenere risultati ispirati in stadi di una certa levatura come può essere il nostro e credo che noi non siamo stati mai nei play out non ci siamo e non ci volevamo tornare poi adesso ripeto ci vogliamo questa salvezza ottenuta sul campo e andiamo con fiducia a guardare un po' più in su allora la cronaca Domenico Pronia ci impone di toccare questo argomento Catania praticamente escluso a 270 minuti dalla fine dal campionato tramite una PEC del Tribunale di Catania che ha cessato l'esercizio provvisorio tanti i commenti fra cui Zeman ma non solo anche Walter Zenga che ha allenato in passato il Catania ma cosa ne pensi tu vorrei il tuo parere anche quello di Alessandro a seguire ma sicuramente è stato tutto falsato a mio avviso questi problemi queste problematiche la Lega le conosceva benissimo anche all'inizio del campionato perché fino all'ultimo non si sapeva se il Catania si poteva iscrivere o meno a questo campionato per cui secondo me potevano prevedere quello che è successo ed evitare magari dei rammarichi per alcune squadre tipo la Paganese che aveva fatto 6 punti o tipo lo stesso Campobasso che ne aveva fatti 2 magari si è trovato in una situazione di classifica abbastanza ideale congeniale quindi non li sono pesati più di tanto questi due punti ma ad altre squadre si è successo quello che è successo pure l'anno scorso mi sembra a Trapani con Livorno pure qualche anno fa quindi diciamo che la Lega non sono nuove a queste situazioni però le possono sicuramente evitare cercando di controllare molto prima durante in estate per le iscrizioni dei campionati Alessandro Lancellotti sul Catania escluso il sabato prima della 35esima giornata concordo con Domenico Progna perché queste verifiche dovrebbero essere fatte all'inizio del campionato in estate poi per evitare queste cose a me il caso del Catania ha ricordato il Modena e la propria Senza che furono escluse in corsa del campionato il Modena fu escluso nelle prime giornate mentre la propria Senza se non ero fu dopo quella partita che passò agli ennali per il 20-0 sul Cuneo sì allora abbiamo citato già Catania esempio di 48 ore fa propria Senza Modena negli anni Livorno Trapani quindi già 5 o 6 squadre escluse dalla Lega Pro a campionato in corso quindi vuol dire che qualcosa evidentemente non va diciamo nelle verifiche estive esatto quindi un po' più di solerzia proprio nelle verifiche estive chiamiamole così anche se insomma al momento in cui le squadre si iscrivono ai campionati con le relative domande e le relative poi fideiussioni per quanto riguarda la Serie D Gaia abbiamo registrato la sconfitta del Matese a San Benedetto del Tronto 3 a 2 quindi partita tirata e la vittoria del Vasto Girardi sul campo dell'Aurora Alto Casertano entrambe hanno quanti punti? Entrambe in classifica attualmente hanno 36 punti però a differenza del Matese che non deve recuperare nessuna partita il Vasto Girardi deve recuperare ben 4 partite quindi a cominciare? Sì giovedì giocheranno entrambe in casa il Vasto Girardi ospiterà il Fiuggi mentre il Matese ospiterà il Pineto ecco invece tornando ad Antoniozzi diciamo che Cudini era squalificato anche ieri contro la Vibonese contro la Turris era perché era stato espulso proprio nella gara poi sospesa per neve il Campobasso Turris mentre ieri insomma si è arrivati ad una somma di ammunizioni e quindi la squalifica per Mirco Cudini che tornerà in panchina allo stadio Ceravolo di Catanzaro noi torniamo in quarta serie per sentire pareri dallo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto Sì abbiamo intervistato i due allenatori Urbano allenatore del Matese e Alfonsi Sante tecnico della San Benedettese Mister era una partita un po' strana da decifrare perché la Samba sembrava averla dominata poi nel finale siete andate vicino al pareggio ma potevate prendere altri gol ma è stata una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre è chiaro che la Samba ha un potenziale importante soprattutto sul piano fisico e sulla qualità noi abbiamo fatto una partita di grande sacrificio cercando di chiudere gli spazi nel miglior modo possibile al primo tempo ci siamo riusciti abbastanza bene poi abbiamo preso l'1-2 del 3-1 però la squadra non si è assolutamente demoralizzata anzi ha cercato di raggiungere il risultato di parità in tutti i modi anche a volte lasciando anche la possibilità alla squadra avversaria di poter fare il quarto gol però abbiamo creato secondo me delle situazioni importanti il portiere è stato bravo su Galesi è stato bravo su Napoletano abbiamo fatto gol abbiamo colpito una traversa quindi una squadra che viene a giocare fuori casa fa due gol e crea altre 4-5 situazioni è chiaro che poi abbiamo sofferto anche le potenzialità della Samba tese che ripeto da metà campo in su è una squadra forte mister una partita che sembrava in pugno poi nel finale si è rischiato però è stata forse anche una delle migliori come gioco perché abbiamo visto gioco sulle fasce scambi giropalla sì sì ma dai abbiamo fatto anche altre prestazioni poi penso che il risultato condiziona un po' anche il giudizio sulla squadra per oggi abbiamo giocato tutti quanti hanno fatto bene non penso che uno non abbia fatto la prestazione e siamo tutti contenti per questi ragazzi l'obiettivo playoff resta adesso diciamo che ci sono pochi punti ma una partita da recuperare sì noi dobbiamo pensare a vincere noi dobbiamo pensare a vincere adesso a Castelnuovo giovedì se vinciamo ci proviamo però se poi inanelliamo come le settimane scorse pareggi non possiamo fare niente quindi per andare playoff dobbiamo pensare a vincere ogni partita Presidente Renzi ha detto serve un po' più di cattiveria sottoporta tante occasioni non realizzate per poco come dagli torta è vero è stata emblematica la cosa però ripeto non si può dire niente ai ragazzi che hanno sbagliato il gol perché poi sono impegnati poi si è arrivato davanti alla porta dall'attaccante a volte con una sfiora la palla va dentro adesso non gli entra la palla dentro però noi siamo contenti della prestazione che stanno facendo stanno dando tutto hanno rincorso i difensori fino alla fine quindi va benissimo così i gol li faranno anche Cardella rifaranno anche gli altri senza problema Alessandro Lancellotti Matese e Vasto Girardi stanno facendo bene io te lo chiedo perché abiti a Vicenza origini molisane ma come se vivessi in Molise perché ci segui davvero con grande attenzione seguo sempre anche il Girona F della Serie D che seguo da tempi quando il Boiano era in Serie D l'ho sempre seguito con particolare attenzione sì il Vasto Girardi ho visto che si è ripreso nelle ultime giornate di campionato mentre anche il Matese ha fatto un bel campionato quest'anno sta facendo un buon penso che si salvino entrambe sì lo speriamo davvero di cuore sono ben avviate alla salvezza mentre Domenico da ex giocatore del Bari la promozione matematica del Bari in Serie B ci voleva? ci voleva sì erano tre anni che ci provavano l'ultima volta hanno perso la finale al Reggio contro la Reggiana allenatore Vivarini io ho diversi amici a Bari e anche diversi tuoi colleghi che chiamano spesso loro si così non sono tanto contenti del gioco che avevano fatto quest'anno almeno nella seconda parte però hanno capito che queste categorie tante volte non conta avere il gioco bello essere perfetti in tutto ma conta soprattutto vincere e salire di categoria e la stessa cosa era venuta quando loro avevano vinto il campionato di Interregionale non erano tanti contenti di Cornacchini che poi comunque aveva vinto il campionato penso che in una piazza come Bari la Serie B diciamo che dovrebbe essere il suo habitat naturale se non proprio la Serie A una città con più di 500 mila persone con un Interland di grande spessore un sacco di gente penso che possano fare bene anche se poi bisogna vedere con la proprietà visto che sono proprietari anche del Napoli come andrà a finire devono vendere perché nulla di più facile è che il Bari possa vincere anche il campionato di Serie B Mignani si è dimostrato un buon allenatore la squadra era forte lo dobbiamo dire è stato molto bravo lì oltre Mignani che è l'allenatore Ciro Polito che è il direttore sportivo che ha preso dei giocatori che ripeto la piazza di Bari non conoscevano tanto ma che si sono rivelati poi alla fine fondamentali e sono stati anche apprezzati tantissimo vabbè alcuni giocatori l'anno scorso giocavano anche in Serie B o avevano trascorsi anche in Serie A però sostanzialmente penso che siano stati bravi sia l'allenatore perché poi non è facile allenare una piazza come Bari dopo tante delusioni sono partiti col piede giusto poi alla fine sono stati sempre davanti e quindi è giusto così sì Mignani è stato già confermato in una conferenza stampa Ciro Polito ha praticamente ha scritto Mignani così ha fatto vedere i giornalisti Mignani sarà l'allenatore del Bari anche nel 22-23 sì qualcuno ha sorto il muso per il gioco però poi conta andare conta vincere il Bari ha vinto pur avendo poi vissuto un periodo molto negativo con le sconfitte contro Campobasso contro lo stesso Messina dobbiamo dire che a Pagani è stato esonerato Grassadonia ed è ritornato di Napoli il tutto a due giornate dalla fine si poteva forse evitare questo esonero perché non so di Napoli che era già l'allenatore precedente che cosa possa fare in due turni insomma con sei punti tolti dalla Paganese ma questo è il problema tolti i sei punti dalla Paganese adesso si ritrovano ancora in una situazione drammatica adesso bisogna capire la regola il regolamento che cosa dice che una è retrocessa che sarebbe già il Catani adesso bisogna vedere se fanno solo un play out due squadre però si va verso solo un play out a quel punto lì ma lo so due partite alla fine pure la squadra stessa non credo l'allenatore che è ritornato che abbia la bacchetta magica però due partite infatti è praticamente finito il campionato allora andiamo a vedere il primo blocco di Moviola dedicato a quali campionati Gaia al campionato di Lega Pro e di Serie D ovviamente a cura del nostro direttore Antonio Di Lallo in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campopasso Ripalimosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane genuine un brivido dolce di felicità decimo minuto del primo tempo a Selvapiana partita che ha consagrato la salvezza certa per un campo basso che l'ha guadagnata decisamente sul campo abbiamo visto il cross di Bolzius torniamo un attimo dietro insieme al nostro regista Donato Mignogna perché c'è la respinta di risaliti di testa vedete il gesto tecnico di Emmausso perché sulla respinta di risaliti effetto una grande rovesciata in sforbiciata sulla quale però interviene il portiere Mengoni e salva la porta dei calabresi trentasettesimo del primo tempo c'è questa azione esattamente sulla destra dello schieramento offensivo del campo basso con un fallo così ha giudicato l'arbitro il signor Perri di Roma un fallo di Liguori su risaliti ecco se andiamo un attimo piano si vede probabilmente che aveva ragione l'arbitro eccolo qui fermiamoci qui perché qui c'è una spinta con il braccio sinistro del giocatore del campo basso sull'avversario poi franano tutti e due a terra siamo comunque fuori area quindi insomma ci sarebbe stato eventualmente soltanto un calcio di punizione ma il calcio di punizione è stato indicato dall'arbitro probabilmente giustamente in favore della Vibonese sedicesimo del secondo tempo terzo gol del campo basso davvero molto bello perché c'è il tiro di Liguori torniamo dietro un attimo proprio per far vedere anche il rimpallo perché vedete Liguori si porta il pallone sul sinistro poi scaglia un tiro c'è un rimpallo interviene Persia che in rovesciata va a mettere il pallone alle spalle del portiere della Vibonese davvero un bel gol al trentasesimo del secondo tempo c'è questo tentativo di Di Francesco sul risultato ormai acquisito in favore del campo basso poteva trovare gloria anche Di Francesco giocatore che ha avuto una serie di disavventure soprattutto di carattere fisico vedete questa volta il gran sinistro ma il portiere Mengoni compie davvero un bellissimo intervento va a deviare con la punta delle dita il pallone in calcio d'angolo quindicesimo del primo tempo a San Benedetto del Tronto dove il Matese ha perso 3 a 2 seguiamo questo cross di Setola il colpo di testa davvero bello da parte di Galesio che vola alto per colpire il pallone di testa nonostante il contrasto con un suo avversario difensore marchigiano ma è sfortunato Galesio perché vedete la sua deviazione finisce sul fondo al 29esimo del secondo tempo va vicino al gol Napoletano gran tiro veramente su calcio di punizione un tiro violentissimo sul quale era battuto il portiere della San Benedettese ma la sfera va ad infrangersi sulla traversa partita tra Alto Casertano e Vasto Girardi qui siamo al 25esimo del primo tempo con un passaggio esattamente per Salatino vedete Salatino in area che effettua un tiro a giro con il sinistro la sfera esce veramente di un soffio alla destra del portiere della compagine Campana sfortunato sicuramente Salatino in questa circostanza al nono minuto del secondo tempo c'è il secondo gol di Prado perché il Vasto Girardi ha vinto 4 a 2 andiamo a vedere la regolarità del gol questo è lo stop di Guadalupi ecco fermiamoci qui quando tocca il pallone questo è il momento vedete Prado che è il giocatore in maglia gialla sulla sinistra del teleschermo sulla lunetta dell'area di rigore è tenuto in gioco da un avversario alla sua sinistra quindi quando parte il passaggio è assolutamente in posizione regolare andiamo avanti con le immagini perché poi arriva il passaggio insacca il gol che appunto è regolare e quindi doppietta per lui è successo per il Vasto Girardi allora ritorniamo a Campobasso Vibonese ha protestato Liguori nel primo tempo siamo quasi al limite dell'area di rigore se possibile grazie ai nostri registi Gianfrancesco Iacaruso Massimiliano Chiocchio rivediamo qui c'è un contatto domenico nel quale il direttore di gara Perri di Roma ha dato la punizione alla Vibonese che cosa hai visto tu? Sei d'accordo o meno? Forse sì perché il calciatore della Vibonese si mette tra Liguori e la palla e quindi di conseguenza fa da scudo sul pallone e viene spinto sostanzialmente lì il vantaggio lo può avere il difensore della Vibonese non era davanti completamente Liguori per poter far fallo cioè subire fallo infatti l'ha fatto lui spingendo quindi sei d'accordo con la decisione dell'arbitro Alessandro Lancellotti Sì anche secondo me aveva ragione l'arbitro Aveva ragione l'arbitro Gaia Sì anche io sono d'accordo con la decisione dell'arbitro Domenico su Liguori questa trasformazione così netta dal girone di andata al girone di ritorno questa macchina da gol che è scattata in lui Un giocatore brevilinio molto bravo tecnicamente di conseguenza giocando a destra col piede opposto spesso e volentieri ha un piede abbastanza pulito rientrava e ha fatto diversi gol è stata l'arma in più nella seconda parte del campo basso perché se nella prima Rossetti aveva tenuto un po' più la squadra del campo basso che i suoi gol nella seconda parte penso che Liguori abbia tolto diverse castagne dal fuoco al campo basso come parlavamo prima la stessa tripletta che ha fatto a Bari insomma è stato l'uomo in più nella seconda parte del campo basso specialmente in attacco perché poi è vero che la difesa ha preso diversi gol può essere la peggior difesa del campionato ma quando si ha un attacco abbastanza forte che riesce poi a far gol spesso e volentieri la difesa lascia il tempo che trovano quando vinci si vince di un gol anche se ne subisci diversi Curini quindi Zemaniano secondo te per il suo modo di giocare sì perché lui col suo 4-3-3 di fabbrica era quello lì che ha iniziato anche se poi spesso e volentieri si è messo a specchio contro alcune squadre quando ci giocava contro per non dare nessun vantaggio e di conseguenza è stato molto bravo intelligente ad adeguarsi a tutte le squadre che affrontava e studiava le contromosse mentre andiamo a rivedere il gol del Vasto Girardi a Pietra Melara la partita Aurora Alto Casertano Vasto Girardi uno degli ultimi episodi passati in rassegna Alessandro Lancellotti Vasto Girardi maglia gialla a cui se n'era Prado regolare secondo te al momento del tocco di Guadalupi vediamo sì secondo me regolare secondo te regolare Domenico sì perché l'ultimo difensore indietro in pratica c'è il piede sulla linea e il giocatore che riceve la palla sta ancora un metro al di fuori dell'area di rigore quindi per me è regolare anche se la posizione non è ideale però si vede che è abbastanza anche perché poi vedi fa un passo all'indietro come per fare il fuorigioco ma era già troppo tardi con il gioco delle linee si può assolutamente decifrare si può decifrare Gaia decisamente regolare decisamente regolare finirà poi 4 a 2 per il Vasto Girardi allora Gaia dobbiamo fermarci ti facciamo una breve sosta pubblicitaria tra poco di nuovo in studio seconda parte di Molise a calci nella quale di solito ci concentriamo su collegamenti Skype praticamente da tutta Italia è il caso in questa puntata dell'amico Stefano Troilo che è un osservatore abruzzese è stato anche addetto stampa della Vastese conosce molto bene le dinamiche del calcio molisano avendo vissuto per anni a Campobasso per motivi universitari buonasera a te Stefano buonasera Gianni buonasera a te ti ringrazio per l'invito saluti i tuoi ospiti Alessandro Lancellotti che non ho il piacere di conoscere personalmente e Domenico Progna che ho conosciuto prima di venire a Campobasso come gloria dei lupi e poi da studente universitario ho giocato decine di volte presso il suo centro sportivo vi saluto Domenico puoi salutare Stefano ciao sono passate tante persone non ci conosciamo personalmente ho partecipato a qualche torneo presso il centro sportivo ma ripeto ti conoscevo come gloria del Campobasso allora ti riaspetto per rigiocare un'altra volta grazie grazie allora Stefano il Campobasso prima in Lega Pro quindi ha vinto il campionato poi salvezza matematica sempre in Lega Pro che sensazioni ti suscita da osservatore esterno guarda davvero a Campobasso si è ricreato quel qualcosa che che non si vedeva da tanti anni perché io sono stato proprio forse nei dieci anni peggiori del Campobasso 2005 fino al 2014 che poi guarda caso è arrivata proprio quella quella Coppa Italia di lettanti ci voleva qualcosa per riaccendere l'entusiasmo la cavalcata dell'anno scorso ho vinto un girone che spesso viene sottovalutato poi magari ne parleremo girone F di serie D è davvero difficile soprattutto tra qualche anno con le laziali insomma è diventato più difficile e poi questo girone che sembrava impossibile quasi di Lega Pro ma al Campobasso trovando anche nel bel gioco spettacolare sembra che insomma da Zeeman le partite col Foggia si è preso anche qualcosa a livello di risultati e poi vabbè ci vuole anche quel pizzico di fortuna purtroppo sappiamo nel calcio moderno che è un attimo che società anche gloriose come il Catania possano fallire almeno dal punto di vista sportivo e quindi ti ritrovi una salvezza strameritata con qualche giornata d'anticipo ma insomma penso che tutta la città sia contenta ma penso che già da qualche settimana il sentore era quello che mancava veramente poco per la salvezza e io da simpatizzante sono contentissimo sì sì mancava poco perché poi questa quota 40 si è raggiunta da qualche settimana a questa parte poi c'è stato un intermezzo di una settimana un punto in tre trasferte ma sostanzialmente poi era diventata quasi una formalità la salvezza del campo basso per quanto riguarda invece hai parlato del girone F di serie D quest'anno lo comanda la Re Canatese che negli ultimi anni abbiamo sempre visto veleggiare in zona playoff con anche buoni giocatori ricordo lo stesso Pera ma anche Liguori che oggi sta sorprendendo tutti a Campobasso quest'anno è prima in classifica e si avvia a vincere il campionato sì Gianni ovviamente stando con il settore giovanile della vastese quindi seguo da vicino quel girone ci ho detto vabbè ma al Campobasso è costato tanti anni vincerlo una piazza come il Campobasso quindi è un girone che ripeto viene sottovalutato da qualche anno ci sono le laziali ci sono le campane la marchigiana che ogni anno si dice no sale quella parliamo di squadre come San Benedettese come Re Canatese cioè non è non è facile e tra le romane il Trastevere quindi veramente un girone ma poi è equilibratissimo se pensi che proprio la Samb se non erro è a più 4 dai play out e a meno 4 dai play off quindi una classifica cortissima la Re Canatese ha preso quel vantaggio che dovrebbe permetterle di chiudere i giochi ma dietro poi sperando ovviamente che rientri la vastese che adesso è un punticino sotto la quota play off sotto veramente bagarre quindi sì Re Canatese diciamo non vogliamo portare sfortuna ai leopardiani però insomma dovrebbe chiudere i conti ma il girone è davvero davvero difficile ovviamente in Molise seguite bene Bastogirardi con la vastese giovanile siamo andati a Pietramelara dall'Auroralto Casertano che vabbè magari quest'anno ha fatto un campionato un po' concentrandosi solo sulle giovanili il Matese a Piedimonte insomma sono trasferte difficili oltre che andare su campi come uno dei miei stati preferiti d'Italia chi è appassionato come me mi capirà Rivera delle Parme di San Benedetto cioè non è uno stato da Serie D quindi davvero un girone difficile ma ripeto la prova è proprio il campo basso e ci ha messo del tempo finalmente per fare la cavalcata che ha fatto l'anno scorso ci ha messo del tempo però ce l'ha fatta mentre so che sicuramente dedichi un'occhiata anche ai campionati regionali del Molise in eccellenza praticamente il Termoli ha quasi suggellato la vittoria del campionato di eccellenza sì Gianni tu sai bene che per lavoro fino a tanti anni fa proprio nel campionato che seguivo di più quello di eccellenza molisana sì il Termoli tra l'altro sotto sotto insomma faccio il tifo e faccio in bocca all'uo perché sono molto amico di Daniele Ciancallini centrocampista a 2001 del Termoli lui è di Campomarino è cresciuto calcisticamente a basso nella Bacica Lupo poi Bacica Lupo Bastomarina società con la quale ho collaborato per due anni quindi li conosco quando sono ragazzini alcuni dei ragazzi che adesso si stanno rendendo protagonisti in Molise quindi sai a volte Montenero Petacciato qualche altro paese più vicino a basso calcisticamente venendo anche negli istituti superiori qui basso San Salvo poi magari fanno la carriera qui ci sono tanti progressi anche Rocca Vivara Montefalcone che giocano a calcio a basso quindi un suggerimento da amante del Molise ma sto appena al confine non farli scappare via questi ragazzi cioè farli andare magari solo a scuola a basso e tenerli perché poi ce ne sono ce ne sono tanti per l'eccellenza sì sì il Termoli dovrebbe dovrebbe farci sto seguendo pure la promozione mi permetto Gianni perché anche lì ho un altro un altro amico nel campo questo è al contrario gioca nel Campomarino ma invece di Termoli Gerry Letto attaccante anche lui giovanissimo 2002 ti sto parlando di due ragazzi che il mister Roberto Cesario ha fatto esordire in eccellenza abruzzese tre anni fa quindi avevano uno diciassetto uno diciott'anni hanno fatto anche dei gol in eccellenza abruzzese e adesso però Gerry in questo caso gioca gioca al Campomarino l'ho visto c'è la Turris forse un po' più equilibrata poi c'è il Petacciato che pure seguo perché c'è Gianluca Di Gennaro un altro amico Molisano che giocava a Basto altri ragazzi di Basto che giocano insomma l'occhio la domenica pomeriggio sui risultati di eccellenza e promozione molisana o seguendo voi le vostre trasmissioni insomma ce lo butto sempre va bene Stefano è stato un piacere risentirci e avere questo diciamo colloquio a distanza di Basto e da Campobasso di pochi minuti ma è stato veramente un piacere saluto tutti saluto te saluto Luigi Di Lallo con affetto saluto Gabriella Laurelli saluto il direttore Antonio Federico tutti quanti Stefano Sariola insomma tutte le persone con il quale ho avuto il piacere di lavorare fino a qualche anno fa grazie Gianni grazie a Stefano Trolio grazie mille per questo intervento allora abbiamo fatto un excursus su tutto il calcio in generale dalla serie dal Campobasso alla serie alla promozione anche tu segui i campionati minori del Molise Alessandro Gianni il Boiano il Boiano che ha perso ieri a Termoli giocando tutto il secondo tempo in dieci uomini poi ha seguito anche la Coppa Italia con l'Isernia che anche vincendo 4-3 è stata eliminata dall'Ossese dall'Ossese i sardi dell'Ossese Bianconeri che sono state un po' una rivelazione nel Girone Veneto stavo seguendo il Montecchio che era arrivato alle fasi finali ed è stato eliminato dalla squadra di Mezzaro in provincia di Brescia senti ma questo Vicenza che è di proprietà di Renzo Rosso stenta abbastanza nel campionato di Serie B rischia la retrocessione nonostante la società a livello finanziario sia molto forte quest'anno ha cambiato due allenatori abbiamo cambiato di Carlo alla quinta giornata poi è arrivato Brocchi abbiamo cambiato anche il direttore sportivo nel campionato in corso si è fatto un mercato di rinforzo a gennaio è arrivato un ottimo portiere Nikita Contini solo che purtroppo si è infortunato anche Lukaku il fratello di Lukaku era anche lui con noi si è infortunato purtroppo il fratello di Lukaku quindi gioca nel Vicenza il fratello di Lukaku gioca nel Vicenza si ieri è ritornato in campo dopo un mese circa perché è stato infortunato ha giocato una mezz'ora ieri è stata anche sfortuna comunque la partita di ieri il direttore sportivo è Federico Balzaretti che giocava nella Roma e nel Torino lo ricordiamo nella Roma e nel Torino mentre volevo da Domenico Pronia ma poi lo chiederemo anche ad Alessandro Lancellotti un commento su questa eliminazione recente il 24 marzo scorso dell'Italia dai mondiali se ne sono dette davvero di tantissime dobbiamo dire agli atti cosa c'è che l'Italia per la seconda volta consecutiva non partecipa ai campionati del mondo ma il problema secondo te qual è in questo momento ma soprattutto diciamo che non è un problema del 2022 se non hai già partecipato ai mondiali del 2018 allora qual è il problema atavico in questo momento ma non è atavico è meno di atavico parliamo delle partite che hanno disputato nel girone con la Svizzera la differenza sono i due rigori perché a livello di gioco l'Italia ha sempre imposto e ha sempre giocato come ha vinto l'Europeo la differenza l'ha fatto i due rigori che sono stati sbagliati sia la partita d'andata che il ritorno di Giorginio che bastava farne uno dei due noi saremmo arrivati prima è chiaro primi è chiaro che poi trovandoti in quelle situazioni comincia a subentrare anche un po' di paura onestamente la cosa che fa risaltare di più è che siamo arrivati agli spareggi con tanta gente infortunata e con alcune persone alcuni giocatori forse anche fuori forma questo è stato forse il la pecca principale anche se ultimamente come al mondiale noi abbiamo e all'europeo noi abbiamo vinto l'europeo non vincendo le ultime due partite ma pareggiandole vincendole ai rigori anche se la mia considerazione è una è vero che noi abbiamo vinto l'europeo ai rigori ma è pur vero che noi quelle partite non le abbiamo perdute quindi non siamo usciti fuori cioè voglio dire che noi con la Macedonia alla fine abbiamo perso e quindi evidentemente abbiamo preso gol è vero che non abbiamo fatto gol ma purtroppo l'abbiamo subito ecco però ti chiedo tu mi hai detto sì l'abbiamo fatto siamo usciti per i due rigori è vero sbagliati da Giorgi ma vedi un problema del calcio perché poi si allarga la problematica si allarga io penso che Mancini sia il selezionatore ideale per questa nazionale perché ha cambiato la mentalità a questa nazionale sono due eliminazioni completamente diverse quelle di Ventura con quella di Mancini non perché Mancini abbia vinto l'europeo ma perché ha cambiato la mentalità c'è da dire anche che forse ultimamente specialmente il calcio italiano sta vivendo un problema di attaccanti non abbiamo un vero e proprio attaccante forte non ci sono le controprove ma molto probabilmente se avessimo passato il turno con la Macedonia noi saremmo andati a giocare lo spareggio col Portogallo che davanti hanno Diego Iota Ronaldo Centrocampo Gianni Fernandez Bernardo Silva hanno tantissima qualità e hanno dei giocatori veramente forti cosa che noi non è che non abbiamo abbiamo un grande collettivo ma non abbiamo delle grandissime individualità che possono cambiare la partita in qualsiasi momento Alessandro Lancellotti sullo stesso argomento l'Italia fuori per mano della Macedonia del Nord concordo fuori dal mondiale fuori dal mondiale per tre minuti il gol è arrivato a tre minuti scusami è arrivato a due minuti dopo il 45esimo è stata una delusione dopo quella della Svezia dell'eliminazione con la Svezia di Ventura anche dal mio punto di vista mancano gli attaccanti la nazionale dovrebbe giocare in maniera più offensiva perché non abbiamo più attaccanti di qualità in nazionale tu sei stato il giornalista che a Vicenza hai inquadrato Paolo Rossi il compianto che si è ricordato dell'inaugurazione di Campobasso Juventus si è ricordato perfettamente poi un video fatto prima che venisse a mancare è venuto a mancare fatto nel 2019 un anno prima che mancasse un anno prima che mancasse però spesso vai ad interpellare anche Baggio che abita mi hai detto dove in provincia di Vicenza Baggio lo si vede ogni tanto lo si vede ogni tanto nella provincia vicentina e quando lo interpelli dice non voglio parlare di calcio ma perché secondo te non si sa come risponde è un appassionato di calcio non è interessato non è interessato non rilascia interviste un po' restio un po' restio penso che sia stato lui almeno che non gli hanno affibbiato questa esternazione che ha fatto che ha detto che in pratica che alcuni opinionisti di testate abbastanza importanti adesso parlano e si riempiono la bocca e quando giocavano non sapevano fare due palleggi di seguito cioè insomma quando parla ha in mente qualcuno si riferisce a qualcuno quando parla quelle poche volte che parla penso che chi meglio di lui però non le fa le interviste e poi quando lo solleciti sull'argomento come ha fatto Alessandro come Alessandro lo ha fatto con Paolo Rossi che gli ha risposto cioè invece Baccio un po' più restio Paolo Rossi fu molto contento di rispondere lui si ricordò quando segnò la doppietta in Coppa Italia Campobasso Verona e lui chiuse la carriera nel Verona mentre invece Baggio è più interessato alla caccia sono gusti nel senso non ne vuole sapere del calcio va a cacciare io ho visto anche un documentario insomma in cui si vede Baggio che è nel suo garage e si dedica alla caccia al giardinaggio insomma calcio infatti non lo vedo nemmeno ospite nelle trasmissioni un amico collezionista di figurine però è andato a casa sua gli feci un articolo un po' di anni fa andò con le figurine di Baggio e lui gentilmente le fotografo tutte forse un fatto caratteriale Domenico caratteri diversi Rossi il compianto e Baggio Roberto non lo so evidentemente Baggio non si rivede in questo ambiente nel calcio nelle trasmissioni non ne vuole più sapere è una scelta e tu ti rivedi? molto poco hai giocato nel Pisa nel Bari nell'Atalanta molto poco molto poco vengo volentieri alle trasmissioni sportive per parlare di calcio ma proprio nel calcio mi rivedo molto poco nel Lecce non dimentichiamolo 105 presenze nel Campobasso poi sei ritornato nel 94 nel Lecce il Lecce come il Bari o meglio tutte le squadre con cui ho giocato sono molto legato e affezionato sarei contento se il Lecce vincesse quest'anno il campionato dopo la delusione dell'anno scorso perché l'anno scorso era due giornate dalla fine prima in classifica e poi si è trovato a fare i playoff quest'anno è una squadra veramente forte e ripeto ritornando al discorso che ho fatto prima quando hai un attaccante capace di far gol sempre puoi anche subire gol ma se tu ne fai uno in più e in questo caso il Lecce ce n'ha uno e hanno avuto l'abilità e la fortuna di prendere un altro che è Coda e poi Strefezza che è il vice capocannoniere della Serie B noi ci giocheremmo con Lecce fra due giornate a Vicenza nella penultima giornata e secondo me il Lecce verrà sempre per fare la partita ma si trova lì non abbiamo dubbi anche perché è primo in classifica e poi manca poco alla fine abbiamo visto anche quest'estate nel precampionato a Vicenza si fa un torneo dedicato a Santa Giuliana Alfonso che era un calciatore di Vicenza che giocò nel Grande Torino Lecce rivolge nel precampionato vinse la pretita e si vede già di che passare la squadra Baroni che ha già vinto sulla panchina Benevento il campionato di Serie B quindi potrebbe diventare uno specialista delle promozioni hanno una struttura abbastanza forte hanno fatto ritornare da due anni Corvino il direttore sportivo quindi sono sanno fare le cose come si deve magari almeno per me non apprezzo tanto quello che stanno facendo nel settore giovanile perché in primavera hanno 18 stranieri però il risultato è quello che conta dalla prima squadra va bene così Volevi dire una cosa però velocissimo perché dobbiamo far vedere la moviola grazie alla regia per questa inquadratura nella quale stavamo tutti e quattro inquadrati Stavamo parlando prima di calciatori a Vicenza invece si vede spesso nevio scala e il mese scorso abbiamo fatto un'intervista con il giornale di Vicenza su un inserito che facevamo un pallone in un paese dove lui ci ha raccontato di come della squadra dilettantistica di Vicenza il nuovo agenza andò al Milan e lì cominciò la sua carriera guidato dopo voluto dalla Roma da Oronzo Pugliese lui adesso risiede a 90 Vicentina in provincia di Vicenza in provincia di Vicenza è stato anche è stato giocatore del Foggia della Roma dell'Inter e anche allenatore lo ricordiamo al Parma e lui la sua grande carriera la fece come allenatore del Parma allenò poi il Fenerbahce lo Spartak Mosca e lo Schattardomex perfetto e il Borussia Dortmund Gaia adesso vediamo il secondo blocco di Moviola sempre a cura del nostro direttore Antonio Di Lallo in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campopasso Ripa Limosani carburanti e lubrificanti di Paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane genuine un brivido dolce di felicità quinto minuto del primo tempo a Campodipietra dove ha vinto il Campodipietra sull'Olimpio Agnonese 2 a 1 allora seguiamo che cosa succede perché intanto c'è un tiro di Colabella finito sulla traversa poi sulla ribattuta vedete arriva Touré che però colpisce il pallone quando il pallone è uscito qui ha visto benissimo il collaboratore anche del signor Scarati di Termoli devo dire una terna veramente molto brava quella che ho visto all'opera nel pomeriggio di sabato a Campodipietra qui il pallone è uscito vedete perché si vede proprio che è fuori ricordo che il pallone per uscire deve uscire completamente cioè non deve toccare la linea bianca qui non la tocca bravo il nostro regista a fissare proprio il momento si vede chiaramente che la linea bianca si vede completamente quindi era da annullare il gol poi realizzato da Delia infatti se andiamo avanti rivediamo tutto con la bella Touré che recupera palla fuori quindi è irregolare il gol di Delia ha visto bene l'arbitro il signor Scarati sicuramente ben aiutato dai suoi collaboratori Liserni ha travolto il Castel di Sangro questo è il gol del 9 a 0 che arriva su calcio di rigore un traversone dalla destra c'è un fallo di mani di Balzano vedete che allunga il braccio colpisce il pallone lo colpisce soltanto con la punta delle dita ma il braccio è largo c'è l'aumento del volume del corpo e quindi ha visto bene l'arbitro il signor Matarrese di Termoli dagli 11 metri vediamo anche la battuta di Panico che fa 9 a 0 tre episodi a gamba tesa il primo proprio dopo pochi secondi di gioco perché c'è questa spinta di De Lucia su Cassano vedete il giocatore in maglia rossa che si disinteressa completamente del pallone va a travolgere l'avversario questo è sicuramente calcio di rigore giustamente concesso dal signor Picciucco di Campobasso dagli 11 metri va Fabio Ruggero che insacca l'1 a 0 27esimo del primo tempo c'è questo tiro di Sam Sam qui il sesto Campano voleva il calcio di rigore ma se andiamo con la lente di ingrandimento ci avviciniamo vedete che il braccio di Di Maio è assolutamente attaccato al corpo non c'è in questo caso si vede chiaramente quell'aumento del volume del corpo di cui parlavo prima quindi questo non era calcio di rigore e anche qui ha deciso bene il signor Picciucco 29esimo del secondo tempo ancora un calcio di rigore qui la fa grossa il portiere del sesto Campano Gazzerro perché riceve palla da un suo compagno di squadra stoppa male il pallone poi va a franare completamente su Davide Ruggero questo è veramente calcio di rigore ma non non soltanto in questo momento ma veramente per l'eternità tra l'altro Gazzerro era già ammonito quindi viene anche espulso dall'arbitro andiamo avanti con le immagini perché il secondo rigore viene trasformato sempre con abilità da Fabio Ruggero e il Gambatesa vince 2 a 1 40esimo a Campomarino pareggia il Campomarino proprio all'ultimo respiro vedete il colpo di testa esattamente di un giocatore in maglia bianca vedete che colpisce di testa ecco il difensore centrale del Campomarino la palla va a rimbalzare sul braccio di Pettorino sono quasi attaccati i due quindi ecco questo è il momento fissato dal nostro regista ma anche qui l'arbitro esattamente il signor Ferrara di Isernia è in ottima posizione quindi si accorge di questa respinta con il braccio largo e assegna secondo noi il giusto calcio di rigore andiamo avanti con le immagini perché Mastrangelo dal dischetto pareggia e quindi evita una sconfitta casalinga per il Campomarino quarto minuto del primo tempo a Trivento c'è questo fallo di Lallitta portiere del Guardia Alfiera che esce a valanga su Viglione vedete va proprio sull'uomo Viglione lo aveva anche scavalcato con un pallonetto ma c'è tutto il fallo del portiere del Guardia Alfiera e quindi è giusto il calcio di rigore concesso dal signor Zurlino di Termoli dagli 11 metri va Berardini che insacca il primo dei sei gol con cui il Trivento travolge il Guardia Alfiera 40esimo del secondo tempo a Spinete c'è questa uscita di Aceto esattamente su Salvatore qui probabilmente c'erano gli estremi per il calcio di rigore perché se ci avviciniamo con la lente di ingrandimento ricordiamo che ha vinto il Termoli 2016 5 a 1 però vedete il colpo di testa di Salvatore che anticipa Aceto che poi lo colpisce praticamente in fronte questo era calcio di rigore secondo noi che invece il signor Simonelli di Isernia non ha concesso allora due episodi in particolare del blocco di Moviola numero 2 quello di Campomarino e poi questo che abbiamo appena visto di Spinete Termoli 2016 per quanto riguarda Campomarino il calcio di rigore dato ai locali che è valso il definitivo pareggio qui c'è il colpo di testa del numero 5 maia bianca del Campomarino e l'arbitro che lì a 3 metri lo vedete inquadrato ha visto Domenico Progna il braccio di Pettorino del Torre Maggiore qui rigore assegnato secondo te? Se vediamo il difensore quando salta non si cura tanto di tenere le braccia attaccate al corpo ma le allarga completamente poi si gira anche verso il giocatore come per dire adesso la ribatto per me è giusto questo rigore per te ci sta la presa col braccio è anche una componente di volontarietà sì per me sì per te sì quindi calcio di rigore secondo te Alessandro Lancellotti? secondo me concordo in pieno ci vede che la tocca col braccio Gaia? sì anche io concordo rigore rigore vedete poi trasformato da Mastrangelo del Campomarino andiamo a Spinete dove sono stati i locali a richiedere un calcio di rigore al direttore di gara Zurlino di Termoli per un'uscita del portiere del Termoli Aceto tutto documentato con le immagini su Salvatore Maglia Blu diciamo che c'era anche un giocatore un compagno di Aceto con la maglia giallorossa però andiamo a vedere quello che succede e chiedo a Domenico Pronia che cosa avrebbe deciso ma al di là che lui gli colpisce l'avversario ma comunque spingendo il suo compagno contro l'avversario comunque è un fallo cioè al di là che lui prende direttamente lui col pugno l'avversario ma comunque spinge il suo compagno verso un avversario e comunque è un fallo è un fallo quindi tu avresti dato il rigore manca un rigore allo Spinete secondo Domenico Pronia secondo Alessandro Lancellotti no non mi sembra il rigore non ti sembra rigore come mai perché secondo me il portiere fa la carica ma c'è anche di fianco il compagno quindi tu non vedi irregolarità no no lo fallo per l'altro sei d'accordo con la decisione dell'arbitro Gaia Cosco sì per me è rigore per te il calcio di rigore va bene allora abbiamo cercato di rivedere gli episodi un po' più controversi di questo secondo blocco di Moviola curato dal direttore Antonio Di Lallo facciamo una piccola pausa pubblicitaria poi ci sarà il top flop a cura di Gaia esatto Gianni facciamo un'ultima pausa pubblicitaria tra poco di nuovo in studio rush finale di Molise a calci con gli amici Domenico Pronia Alessandro Lancellotti Domenico se dovessi citare un giocatore del campo basso ovviamente non tenendo conto solo del girone di ritorno abbiamo citato Liguori che è stato straordinario nella seconda parte ma in generale uno che secondo te ecco è stato più incisivo degli altri eppure uno che ti ha colpito di più tutto il campionato ma come ho detto prima la prima parte ci sono stati alcuni giocatori che sono stati più determinanti di altri nella seconda parte qualcun altro non saprei forse nella prima parte è stato più incisivo e determinante Rossetti con i suoi gol e la seconda parte Liguori non c'è stato qualcuno forse il più regolare di tutti fra andata e ritorno e il metronomo Candellori Candellori magari è stato quello più costante magari non ha fatto delle partite da nove ma non ha fatto male partite da cinque quindi è stato quello più continuo e più costante anche se poi magari non balza più di tanto agli occhi degli addetti ai lavori La piazza come ha risposto ieri 3.000 persone allo stadio hanno recepito l'appello di Mario Gesuè a venire allo stadio a festeggiare giustamente questo traguardo della salvezza diretta poi chiederò ad Alessandro Arancelotti paganti perché è emblematico di Benevento Vicenza secondo te la piazza come ha risposto il tifo? La piazza ha risposto bene perché dopo 22 anni 21 anni che non c'era il Campobasso Lega Pro ha risposto bene anche perché il Campobasso è una piazza molto particolare quando le cose vanno bene sono tutti bravi sono tutti buoni quando le cose vanno male come d'altronde forse dappertutto vengono meno però sostanzialmente il tifo durante l'anno è stato forse quello più costante di tutti più dei giocatori Alessandro Arancelotti Benevento Vicenza Benevento che si sta giocando il secondo diciamo la promozione in Serie A più che il secondo posto quanti presenti al Vigo? 3.141 spettatori totali di cui 73 da Vicenza Perfetto non si può sbagliare 73 da Vicenza però voglio dire ieri in tribuna stampa allo stadio mi hanno passato per fare una riflessione un confronto su quelli di Campobasso Bibonese che era una salvezza per la partita per la salvezza in Lega Pro c'erano più o meno gli stessi spettatori magari 2.8 2.9 noi abbiamo detto circa 3.000 Benevento 3.073 da Vicenza quindi fa fare una riflessione anche sulla risposta che il pubblico Campobassano ha dato quest'anno e che anche la risposta di Domenico Prone ci fa capire molte cose allora Gaia Sì adesso vediamo la rubrica Top e Flop con il migliore ed il peggiore del weekend Top a Maita del Bari che sblocca il punteggio in Bari Avellino un destro da fuori che non lascia scampo al portiere dell'Avellino sarà il gol partita al San Nicola Flop a Chiorra portiere del Taranto che si lascia sfuggire un calcio di punizione di Rizzo del Messina da molto lontano sarà il gol partita Messina 1 Taranto 0 e siciliani e ionici salvi Allora Domenico Pronia sei d'accordo con Gaia le decisioni Top Maita che è un giocatore davvero straordinario del Bari Bari che nonostante la vittoria del campionato sta onorando perché ha battuto l'Avellino 1 a 0 poi la papera di Chiorra del Taranto Sostanzialmente sì è vero Maita ha fatto un gran gol non avevi fatto vedere invece il trenino che hanno fatto dopo che riguardava le sultanze degli anni 90 del Bari ed è stato molto apprezzato dagli ex giocatori di quel periodo e invece il portiere del Taranto ha fatto un aver proprio stato un infortunio un tiro da molto lontano gli è passato sotto la pancia capita capita si sono salvati entrambe Messina e Taranto con questo risultato Chiorra a scuola fiorentina si è fatto passare il pallone sotto la pancia da lontano da 40 metri Alessandro Langelotti concordi? Sì concordo e poi mi dicevi Catanzaro Campobasso sabato santo ci sono due ex del Vicenza in campo Antonio Cinelli e anche che secondo me è un giocatore fortissimo ha fatto molto bene a Catanzaro il belga Iari Van de Putte e ti dirò che in un luco canistro Campobasso io conobbi un emergente Vincenzo Vivarini che oltre ad essere secondo me un bravo allenatore è anche proprio una brava persona un signore che poi abbiamo incrociato spesso nel girone F di Serie D lui è credo di Chieti ha allenato il Chieti poi è andato proprio al Bari lo ricordavi ha perso la finale playoff domenico contro la Reggiana e adesso si ritrova a Catanzaro a Teramo è stato anche è stato all'Entella l'anno scorso Entella dove gioca Silvio Mercai che dal vasto Girardi a Chiavari ha segnato 12 gol che non sono pochi quindi un giocatore davvero molto molto valido ha giocato bene bravo un bel giocatore un bel giocatore che ripeto fino a un anno fa un anno calcistico fa era in Molise al vasto Girardi allora io ringrazio Alessandro Lancellotti è stato davvero un piacere averti ospite qui in trasmissione grazie mille seguici sempre vi seguo sempre da Vicenza sia domenica sport che Molise al calci grazie mille siamo davvero onorati che ci segui da così lontano ma non sei l'unico grazie a Domenico Pronia grazie a voi grazie a voi è stato un piacere il piacere è stato tutto nostro e grazie a Gaia con la quale ci rivedremo quando? si ci rivediamo direttamente dopo le festività pasquali quindi appuntamento lunedì 25 aprile sempre su Tele Molise e sempre a Leventuro vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata buonasera a tutti Molise a calci in collaborazione con design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo uscita a Civitanova del Sagno Consul Brokers Piazza della Vittoria 14A a Campobasso broker di assicurazione Info 0874 43 86 35 Molise a calci a Campobasso